3, 2, 1, 3, 2, 1, via! Bella ragazzi bentornati qui sul mio canale, oggi siamo accompagnati parte del Lavori Chiu Crew Eravamo anche con Justice che purtroppo, insomma se volete sapere cosa è successo andate sul suo canale Che trovate qui sotto in descrizione come tutti gli altri dove abbiamo registrato altre challenge Oggi siamo qui con la Woodwork Challenge che praticamente è una prima sbara alternativa Ovvero dovremmo andare a prendere prima un palo, una volta preso il palo, solo una volta preso il palo Potremmo puntare la traversa e poi l'altro palo Vedrete comunque se non avete capito niente, avete capito o no? Sì, cazzo è una volta Cominciamo, vabbè anche il biglietto Dietro le quinte Ma adesso? E poi vai in grado, cioè a grado Eh sì, tipo a livelli Io sento si trova Iscrivetevi a Daniele Quattro No, è la città No, è la città La città Voglio il replay, voglio Era palo, guarda, guarda Era palo, era palo Era palo Vabbè palo Traversa Domanda, scusate, ma se prende l'incrocio conta sia traversa che palo? Palo Questa è una, quant'è la traversa? Mi se ne forza? No, io dopo vi te lo fa Facciamo la battaglia di vista, rendo poi Dopo è più traverso, dopo Bravo Dopo devi buttare la traversa Comunque c'è stato Complimenti, complimenti Ti sta stretto Ma è serio? Questi sono gli acidi Sì, però non è quell'originale Ma guarda Vabbè, però C'è schifo C'è schifo che fai Ci provo? Ci provaci De pontazza R1 quadrato R1 cento 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 Cos'era? La rete Si compie la rete La rete Oh la presa No 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 Si Si l'ha presa Ma com'è? Ma non l'ha presa regà Ma sembra di poco Si però coraggio Io certe è partito con questa cosa di nulla a nessuno Oh Non c'è la pigliarda Niente Brava Andre Niente Ma quanto c'è il passeggino dietro regà? Buffone Non va Si non è fiusa si vede Nooo Eccolo mentre tira Fede niente da fare Non va neanche che la faccio a definire Si però potresti? No perchè sono incazzato è un complotto E' un complotto Cioè quel signore la no? Quel signore la Non quello che è dalla telecamera Chi è? Un altro che può anche salutare No è tutto backstage questo Tieni 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 Non viene Non viene ragazzi Passo Non va Il primo tiro non va Attenzione fuse Non va Però c'è la rete eh Ancora fuse non va Gesto di stizza Attenzione il gesto di stizza di più si sta per arrivare Al momento si ammazza però Che deve fare? Ha visto le dinamiche? Nooo Però mi sentiamo male No no Ma perchè sempre per fermere la mira Eh si si Un po' più a sinistra devi tirare Un po' meno a sinistra Oh la posso chiudere? No Eh si eh Hai vinto lo stesso Non va Svorone Svorone di merda Non fai non look Ti do Ti do Ti do 1 milioni di euro Vieni 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 Ragazzi Ho vinto io Con Vinto io No in realtà ho vinto Eni che è un ragazzo carino però bravo E il quale all'inizio con l'hai? Ma stai il sì Ma vedremo quella cosa in tecnologo! Se l'ho preso? Ma vedremo quella cosa in tecnologo! Comunque ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa challenge! Passate dai canali, intanto andate sulle loro facce! Andate sulle loro facce per guardarli! Non lo farà mai questa cosa! Alternativamente ma state state in descrizione per tutta la griva, anche Just che purtroppo non è potuto essere qui con noi! Se non lo siete già, iscrivetevi! Non è che ci vuole stare, c'è stato però... Vabbè! E' successo? Zerio! Massimo! Tutti i ricordi fai ricadono su lui! Comunque signori, noi ci becchiamo con i prossimi video! Bella ragazzi, bella! Ciao!